Diciamo anche come stanno le cose sinceramente, è chiaro che Obama spinge, Obama, Partito Democratico, Clinton, spingono su Renzi, perché Renzi è stato un ottimo esecutore degli ordini americani, ricordiamo tutti anche le sanzioni nei confronti della Russia, che hanno comportato miliardi di euro per l'Italia di perdita. C'è la questione Russia, c'è la questione Libia, ci sono varie questioni di bambino. Ecco i 450 soldati in Lettonia per fare pressioni, insomma tutto quello che Obama ha chiesto, Renzi ha concesso piegandosi, mettendosi proprio a pelle d'orso, per cui ci mancherebbe altro che dopo tutti i piaceri che sono stati fatti in America, ripeto, che sono costati miliardi di euro ai cittadini italiani, pensiamo al comparto agroalimentare, il comparto del legno, quello che si è costato le sanzioni alla Russia, per cui è stato una resa di un piacere.